Ci serve qualcuno che ci porti su quest'isola. Cui? È la zona più pericolosa dell'oceano, non ci sono isole laggiù. Oh, bellezza, che problema c'è? Andiamo. Oh, è il mio sistema d'allarme. È più sicuro il Titanic. Qualche sera fa da queste coordinate è partito un segnale radio. Potrebbe essere l'isola misteriosa descritta da Jules Verne. E vuoi andare dall'altra parte del mondo a incontrare un pazzoide che sta armenciando con una radio? Non è un pazzoide, è mio nonno. Ha cercato quest'isola misteriosa per tutta la vita. Aiuto. Dove siamo? Ho trovato la via per lasciare la spiaggia. Signore e signori, ecco a voi. L'isola misteriosa. Se questo è il paradiso, io ci rimango. A strabilianti. Allora, volete restarvene là? Nonno! Chi è pronto per l'avventura? E quello che posto è? Atlantide. Una montagna d'oro. Non ci credo. Tra due settimane saremo sulla copertina di Time. Che meraviglia! Vi avverto però. Sull'isola ci sono una giungla tenebrosa e creature terrificanti. Mi sento castrato. Che cos'era? L'isola sta per sprofondare. Quanto tempo ci resta? Due, tre ore. Sono uova, non rocce. Fermi. Le lucertole hanno un olfatto eccezionale. Se verremo sbranati. Correte! Me la prenderò con te. Come far colpone? L'attenzione di una donna è una delle cose più difficili da ottenere. Devi imparare a fare così. Che cos'è? Il ritmo pettorale dell'amore. Coraggio, tirami una bella macca. Boom!